buongiorno ragazzi eccoci qua sul canale tecno alex 73 e vediamo il funzionamento del nostro tecno beretto ok allora tanto si attacca il cavo per ricaricarlo qua c'è il suo apposito porta micro usb si collega dalla parte dove abbiamo la usb si mette su qualsiasi alimentatore va bene anche quello del telefono si collega e si attacca la corrente al centro ci verrà una luce rossa una volta che è messo in carica che vuol dire che sta caricando quando la luce diventerà il led diventerà completamente blu vuol dire che è stato caricato completamente quindi noi stacchiamo cavo e alimentatore teniamo schiacciato il bottone centrale quello del play della pausa per 6 secondi più o meno vedete si accende e lampeggia rosso e blu rosso e blu in questo modo il bluetooth è attivo quindi noi non dobbiamo fare altro che col nostro telefono attivare il bluetooth e una volta attivato bluetooth verrà nell'elenco dei dispositivi trovati vicino al nostro device verrà scritto music up che sarebbe il nostro beretto si clicca sopra music up e il telefono e il beretto si associeranno insieme si troveranno e inizieranno a passarsi i dati basta dare una volta che viene selezionato vi chiederà se volete accoppiare il dispositivo al vostro telefono basta dare ok e l'accoppiamento è avvenuto con successo all'interno abbiamo i due microfoni uno destro e uno sinistro dove sia dove arriveranno le istruzioni o arriverà la musica o le chiamate come vuole la legge europea per le chiamate si sentirà solamente da una parte la parte destra perché questo vuole la legge invece quanto è musica o tutto il resto del multimedia si sentiranno da due le parti dove qua abbiamo il nostro piccolo pannello di controllo dove il più sta per alzare il volume il meno sta per abbassare il volume poi abbiamo play e pausa ok niente di difficile può fare chiunque è una cosa semplice che richiede giusto quei tre quattro minuti l'unica grossa perdita di tempo a ricaricarlo perché ho visto che ci sta quasi un'ora per essere completamente carico adesso poi non so quanto durerà usandolo perché non ho ancora avuto modo di testarlo ma loro ti garantiscono 6 7 ore di musica continuata quindi speriamo che poi sono sempre meno quindi secondo me quattro sicure ci stanno va bene ragazzi questo era quanto per le istruzioni del nostro tecno beretto e noi ci vediamo al prossimo video sul canale tecno alex 73 ciao a tutti